Eccedenza del personale di formazione nel Mirino. L'assessore regionale Nelli Scilabra annuncia una verifica del rispetto del blocco delle assunzioni. In particolare Scilabra ha invitato il Dipartimento a verificare se gli enti in cui si registra un sovrannumero di dipendenti abbiano assunto mantenuto personale a proprio interno a partire dal 31 dicembre 2008, data in cui era scattato il blocco. Per questo motivo alcuni operatori inoltre non risultano inseriti nell'alba degli operatori della formazione professionale. Per verificare che siano state eseguite le procedure corrette Scilabra chiede al in cui gli enti non abbiano dichiarato l'eccedenza di personale e dunque controllare se gli obblighi a tutela dei lavoratori siano stati rispettati, ovvero verificando se vi sia stato l'assorbimento dei lavoratori inseriti nelle liste di personali in eccesso in altri enti di formazione. Condivido l'ipotesi avanzata da deputato Marco Falcone di istituire una commissione parlamentare di inchiesta sul settore della formazione professionale, afferma l'assessore Scilabra, e conclude auspicando che la riforma del settore passi da una più stretta collaborazione tra governo e Parlamento regionale. Grazie a tutti.